Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926 Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis, è gratis anche il gruppo Telegram, link in descrizione E qui trovi l'Instagram di Neapolis 1926, vieni a trovarmi anche lì, anche quello è gratis Allora, verso... no, verso, è oggi la partita quindi non è verso nessun'altra parte Ragazzi, Milano in parte chiama, Napoli deve rispondere Non ci nascondiamo, ieri il Milan ha vinto contro lo Spezia, l'Inter ha pareggiato 2-2 in casa con l'Atalanta Partita dove è successo di tutto, io non l'ho vista però ho visto un gol annullati, un gol convalidati, un macello comunque Non mi interessa, e quindi noi potremmo guadagnare altri due punti sull'Inter Quindi, il Milan per ora tiene il passo del Napoli E il Napoli deve rispondere a questo Milan, il Milan che ragazzi gioca Gioca, il Milan sa giocare, Piole li fa giocare bene E la mia preoccupazione è il Milan che non cali Perché anche se cala, gli devono entrare altri 6-7 giocatori, ora non mi ricordo di preciso E quindi è una delle papabili candidate allo scudetto Il Milan si candida allo scudetto come l'Inter, come la Juve, come tutti quegli altri L'ha detto anche Luciano Spalletti in conferenza Noi non ci nascondiamo, noi Napoli non ci nascondiamo Però ci sono altre 7 squadre che lottano per lo scudetto Quindi non dovete guardare solo noi, ma guardate anche le altre squadre Allegri se ne è uscito in conferenza stampa dicendo Io la classifica non la guardo, ho visto solo che abbiamo vinto uno scontro salvezza Domenica e quindi giovedì, scusatemi E quindi io mi godo il momento dello scontro salvezza Proprio per non dare ulteriore ansia ai giocatori della Juventus Cosa che fa anche Luciano Spalletti in conferenza stampa Perché gli hanno posto la domanda Ma Rachmani e Manolas c'è stato qualche... Fermi Avete visto come è entrato Rachmani e Manolas, scusatemi In partita dopo le tre panchine consecutive? Sì E allora cosa vuol dire? Che Manolas con le tre partite che ha fatto in panchina Gli sono servite In effetti è entrato contro la Samp a carico a pallettoni Non c'è nessun problema a fare Rachmani e Manolas I giornalisti ora inizieranno a mettere Tizagna Lo sappiamo perché Napoli dà fastidio lassù Non ci ritengono pronti Non ci ritengono all'altezza della Juventus Del Milan e dell'Inter E dell'Atalanta E quindi iniziano a fare questi tranelli Ma Luciano Spalletti dai suoi 62 anni Sa come rispondere e come farli stare zitti Addirittura gli hanno posto la domanda È il Napoli di Luciano Spalletti? E lui ha risposto In parte sì Ma se il Napoli è così Lo dobbiamo in parte a Benitez Sarri Ancelotti E anche a Gattuzzo Da cui ho riditato la squadra C'è stato un... Fra di loro hanno creato un gruppo Che noi giochiamo ancora con i giocatori di Benitez Se non erro Perché mai l'attense lo prese Benitez E quindi c'è quell'alchimia Che vanno a crearsi Questo gruppo di giocatori Con tutti questi allenatori E ragazzi E indubbiamente Il Napoli è partito dall'era Benitez Il Napoli che vediamo ora È partito tutto dall'era Benitez Poi è arrivato il gran gioco di Sarri È arrivata la delusione di Ancelotti È arrivata la delusione di Gattuso Ma poi è arrivato Spalletti Che per ora Sta dimostrando quello che doveva dimostrare Gattuso Che non ha dimostrato l'anno scorso Quindi squadra unita Niente ammutinamenti Tutti si vogliono bene Lo vediamo anche in segni che scherza nel treno con Tommaso Con Tommi Gli fa gli scherzi Sono cose belle da vedere E Spalletti sta apportando questo Serenità A questo Napoli E basta ragazzi Che dobbiamo dire? Ah L'ultima cosa Perché poi mi ero scritto Praticamente quasi tutto Della conferenza stampa Però se no facciamo un video di 20 minuti E per caricarlo ci sta una giornata intera Per Spalletti La partita con il Cagliari È una partita difficilissima Io sono qui che lo dico anch'io Perché il Cagliari non è mai facile Non è mai semplice da affrontare il Cagliari Basta guardare l'anno scorso E come è andato a finire? Ci siamo sciolti Quella doveva essere la partita per chiudere la qualificazione in Champions Non l'abbiamo fatto E siamo andati in Europa League Anche grazie a quel pareggio Comunque Spalletti ha detto Walter Riferendosi a Mazzari naturalmente Sta facendo qualcosa di buono a Cagliari Naturalmente ha perso con la Lazio Però le idee ce l'ha E quindi avverranno qui carichi e organizzati E preparatissimi per giocare contro di noi E quindi servirà la miglior qualità E il miglior Napoli Dobbiamo esprimere il nostro potenziale migliore Per battere il Cagliari Chiudo poi il video dicendo Gli hanno fatto la domanda Ma il turnover Quando si farà? Si farà il turnover? E semmai quanti giocatori dovranno andare in panchina? Quanti dovranno entrare? Allora gli ha detto Per ora non si farà nessun turnover Perché alcuni giocatori che erano agli europei Devono ancora entrare nel pieno della propria autonomia al 100% Naturalmente più avanti dovremmo fare il turnover Come lo faranno tutti Perché poi sappiamo Europa League Campionato Poi c'è la Coppa Italia Quindi è un bel mischiume E quindi per ora il turnover non si farà Se andrà avanti con questa formazione Ragazzi Poi Levi Zenischi metti Elmas Elmas è cambiato moltissimo Levi Anguissaccia ed Emme Levi Fabian c'è lo vodka C'erano le alternative L'unica alternativa sono pochi terzini Però Ahimè Questo nodo terzini ce lo porteremo fino alla prossima stagione A meno che a gennaio il Napoli Non è a buon punto per lottare per lo scudetto A quel punto Se della valente si passano la mano sulla coscienza E noi lo ringraziamo molto volentieri Comunque ragazzi Il video finisce qui Sempre e comunque Forza Napoli Dal vostro Neapolis 1926 Why you Milano chiama E Napoli deve rispondere Non è a buon punto per lottare per lo scudetto Non è a buon punto per lottare per lo scudetto